John Hogg è in concorso a questa 79esima edizione con The Eternal Doter. Avevamo grandi aspettative rispetto a questo film in relazione soprattutto a queste atmosfere un po' legate al misteri, alla nebbia in cui viene avvolta questa villa dove si anima il passato di presenze, di spiriti, diciamo così, attraverso un percorso che è quello della sua protagonista, Tilda Swinton, che in questo caso ha, come in passato ha già fatto, interpretato due ruoli, sia quello della figlia che quello della madre. Peccato che entrambe le interpretazioni siano abbastanza scialbe, lei stessa ha dichiarato che l'intero film è costruito su ribadite e ripetute improvvisazioni, ecco c'è un po' questa sensazione che sia tutto molto improvvisato, non succede praticamente niente, la storia di questo rapporto, madre figlia, all'interno di questa villa che nel frattempo è diventato un albergo, diciamo siamo nella campagna fuori Liverpool, l'atmosfera nebbiosa c'è, il senso un po' vittoriano, anche se il periodo chiaramente è diverso perché è contemporaneo, insomma c'è, ma è tutto quello che c'è. Dopodiché è un passare tra una tazza di tè e un portare il cane al parco e francamente anche questi brividi che si dovevano provare non mi hanno minimamente toccato, per cui tutto sommato una grande delusione per quanto mi riguarda, magari così la mia personal opinione è qualche ruolo in meno e farlo un po' meglio. Diciamo che anche questa disperazione legata alla morte non arriva tantissimo, nonostante anche in questo caso ci siano insomma opinioni molto contraddittorie, c'è anche a chi è piaciuto tantissimo e l'ha trovato dolorosissimo. Ecco, secondo me c'è un abisso rispetto a quello che fa provare Daran Oronovsky, a quello che non si riesce a provare con The Eternal Duter.